1.885 ispezioni effettuate, sequestri per 12 milioni di euro ed elevate sanzioni per un totale di 310.000 euro. Sono questi alcuni dati emersi dal bilancio annuale dei Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione di Salerno, in collaborazione con i comandi provinciali dei Carabinieri di Salerno, Avellino e Benevento. I militari dell'arma, nel corso dell'anno appena trascorso, hanno effettuato controlli ed ispezioni al fine di tutelare la salute pubblica ed in particolare nei settori della sanità pubblica e privata per le verifiche collegate all'emergenza pandemica, professioni sanitarie, tenuta delle farmacie e degli stupefacenti, salubrità degli alimenti, controlli antidoping, animali da reddito, benessere degli animali, cosmetici ed anche sicurezza sui luoghi di lavoro. Le ispezioni più rilevanti hanno portato alla contestazione di sanzioni amministrative correlate al mancato rispetto della normativa anti-Covid. Controlli poi anche sulle strutture ricettive per anziani, RSH, case di riposo e gruppi appartamento, con conseguente segnalazione agli organi competenti delle non conformità rilevate a vario titolo, come carenze strutturali, organizzative e funzionali. Controlli a farmacie e parafarmacie, verifiche con conseguenti diffide o sospensione ad ORAS per gravi carenze igienico-sanitarie o delle condizioni di sicurezza, arrecando pericolo per l'incolumità dei lavoratori e degli avventori e sequestro di alimenti non tracciati di varie attività commerciali o operanti nel settore agroalimentare, come casifici, pescherie, macellerie, ortofrutte e ristoranti. Controlli, produzioni dolciarie, controlli alle rivendite di prodotti fitosanitarie, verifiche presso catene di supermercati, adottando in alcuni casi, a seguito di gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali rilevate congiuntamente a personale medico delle competenti ASL, la chiusura di reparti e depositi alimentari. Controlli su strutture sanitarie e cliniche veterinarie. I controlli proseguiranno nel corso del nuovo anno in tutte e tre le province per garantire in ogni settore la tutela della salute pubblica. Le persone deferite all'autorità giudiziaria nel corso delle operazioni sono da ritenersi presunti innocenti fino ad un definitivo accertamento di colpevolezza in successiva sede processuale. Per quanto riguarda nello specifico le operazioni effettuate nel Salernitano, il bilancio dei carabinieri del NAS riferiscono di un totale di 1.327 controlli, di cui 288 risultati non conformi. Effettuati i sequestri amministrativi per un valore di 8 milioni di euro, 507 sanzioni elevate per un totale di 219 mila euro, segnalate 212 persone alle autorità amministrative e 52 persone alle autorità giudiziarie.